Credi in una cosa e rendila possibile. Fa che la tua passione diventi vitale. Questa è la storia di Aishoplan, una ragazzina forte e coraggiosa di 13 anni che vive sui Monti Altai e che ha scelto di diventare la prima cacciatrice con le aquile di sesso femminile. Da oltre mille anni i maschi delle popolazioni nomadi della Mongolia si succedono di padre in figlio nel ruolo di cacciatore con l'aquila. Ogni figlio maschio ruba dal nido un aquilotto che terrà con sé per sette anni e che poi lascerà libero di andare. Anche Aishoplan si arrampica in alta montagna per catturare il suo aquilotto, crescerlo e addestrarlo, secondo gli insegnamenti del padre. Molto determinata, Aishoplan insiste nel perseguire il suo sogno, nonostante il parere contrario degli anziani della comunità. Presentata all'undicesima festa del Cinema di Roma, a Sundance e a Toronto, il documentario La principessa e l'aquila di Otto Bell è stato venduto in tutto il mondo. Accanto al racconto di formazione della ragazzina alle prese con le prime prove importanti della vita, il regista mostra le abitudini di una famiglia seminomade lontana dal mondo che conosciamo, abitante del paese meno popolato della terra. Una condizione di isolamento nell'isolamento, vissuta dalla protagonista con estrema naturalezza e con l'impressionante consapevolezza che la sua passione non toglie nulla alla sua femminilità. Catturata dall'obiettivo di Bella alla vigilia dello sbocciare, ma ancora legata all'infanzia e alla sua trasparenza emotiva. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS